Roma incontra protagonisti e fatti della grande attualità un programma ideato e condotto da Enrico Cisnetto Buonasera, buonasera bentrovati, bentornati a Roma incontra allora mentre la politica si sta sempre più avvitando su se stessa dando cattivo spettacolo l'economia italiana si è fermata entrando in stagnazione e rischia seriamente di mettere la retromarcia portandoci entro giugno prossimo nella terza recessione di questo secolo le evidenze ci sono già tutte calo della domanda della produzione industriale frenata delle esportazioni blocco degli investimenti crisi esplosiva del settore delle costruzioni e delle infrastrutture portafoglio ordine delle imprese in forte regresso persino il nord più dinamico e produttivo è in panne alla base di tutto c'è la sfiducia la sfiducia degli italiani che evitano i consumi degli imprenditori che non investono delle banche che chiudono i rubinetti del credito degli investitori che fuggono da azioni e obbligazioni italiane dei mercati che ci puniscono facendo salire lo spread come oggi insomma per quanto certa spavalderia governativa lo neghi il paese si sta progressivamente fermando certo il quadro internazionale tra Brexit protezionismo americano e quant'altro non aiuta come dimostra la frenata europea ma se le altre economie rallentano la nostra è già a crescita zero e poi a differenza del 2008 quando la recessione fu mondiale del 2011 quando si fermò l'intera Europa questa volta il vento della recessione soffia solo su di noi e per motivi politici non economici scrive Ferruccio De Bortoli sul Corriere della Sera che siamo sull'orro del precipizio ma il governo non sembra avvertirne il pericolo vero la sfida all'Europa di là che abbia o meno fondamento è autolesionista proprio perché nelle nostre condizioni non siamo in grado di sostenere alcuno scontro e la manovra di bilancio tutta l'insegna del welfare assistenziale fatto in deficit non è certo in grado di evitare che la stagnazione di oggi si trasformi nella recessione di domani anzi apre le porte alla decrescita e non alla decrescita felice che qualche pazzo evoca e che non esiste ma la decrescita infelice per evitarla occorre insomma dare subito una sterzata alla nostra politica economica in quale direzione chiediamolo ad un economista di razza che è stato a lungo ai vertici di Banca d'Italia e che ha appena scritto un libro proprio su questo autore per Donzelli di Tornare alla crescita perché l'economia italiana è in crisi e cosa fare per rifondarla per Luigi Ciocca Allora guardiamo un filmato che mi hanno mandato che è veramente significativo prima vediamo la partenza è il 1961 l'Italia è lì dove c'è la freccia siamo posizionati così in classifica naturalmente gli Stati Uniti la fanno da padrone adesso velocemente scorrerà sono 30 secondi scorrerà facciamo partire ecco vedete che via via anno per anno la freccia va un po' più su un po' più giù più ci avviciniamo ai tempi nostri e poi vedrete che la freccia sarà destinata qui siamo ancora discretamente messi che sono dollari si sono in dollari discretamente messi poi via via scendiamo scendiamo quando saremo al 2017 ecco siamo scesi lì ci hanno superato l'India e il Brasile rispetto a dove eravamo partiti insomma caro Ciocca l'economia nostra è da rifondare perché addirittura questo verbo è stato usato per il suo libro perché l'economia è in crisi e cosa fare per rifondarla ce l'abbiamo ce l'abbiamo da da rifondare da rifondare una premessa rapidissima io ho composto questo libro un po' come fanno i naufraghi quando gettano la bottiglia con dentro il messaggio che nessuno raccoglierà un SOS un SOS inutile la parte analitica del libro fondamentalmente dice che questa nostra economia soffre di due vuoti un muoto di domanda effettiva da 20 anni circa anche più e un muoto di produttività i dramatis persone sono almeno due da un lato come forse lei accennava chi governa o chi ha governato le politiche io ho parlato di oggi ma naturalmente tra l'altro chi c'è oggi è per merito il merito tra virgolette di chi c'era ieri quindi coloro che hanno governato in punto di politica economica istituzionale avrebbero potuto far meglio dall'altro lato però le imprese italiane non hanno risposto certo in un contesto che non le ha favorite sotto diversi profili ma alla fine della fola la produttività è un loro problema ed è il più serio fra i due vuoti quello di produttività forse è il più serio e chiama in causa la crescita di lunga lena ma come mai non si vede questo tema perché i riflettori dei media sono puntati su quel po' di aziende che vanno bene quindi ci illudiamo che il nostro capitalismo sia fatto di quelle medie imprese tecnologicamente avanzate le multinazionali tascabili come qualcuno l'aveva chiamate cioè ci illudiamo che sia tutto così poi invece se si fa vedere i numeri è verissimo sul piano almeno sul piano statistico che le medie manufatturiere in particolare hanno una produttività media più alta delle concorrenti europee ma la palude delle meno che medie le pochissime grandi che restano veramente hanno deluso la loro produttività è molto molto più bassa di quella delle concorrenti e c'è un problema di innovazione e progresso tecnico serissimo si dice però che c'è anche un tema A che siano poco capitalizzate B che siano poco managerializzate cioè che le imprese italiane essendo tutte molto familiari tendano a essere gestite dall'imprenditore stesso quindi l'imprenditore fa anche il conduttore aziendale mentre forse i mestieri sono un po' diversi un conto all'imprenditore un conto al manager questo tratto però come lei sa benissimo è stato sempre vero anche negli anni 50 anche quando andava bene anche quando andava bene una differenza palese è che oggi vogliono vendere l'impresa non trovano sempre compratori però insomma se ne sono andate tanto o ai fondi o a soggetti quindi un problema di domanda globale è un problema di produttività entrambi molto seri e come si dice strutturali che cosa può fare la politica economica e istituzionale e io in questo libretto nel capitolo conclusivo indico sette vie che sono tantissime proviamo a elencarle elenco una per una pareggiare il bilancio pubblico pareggiare vuol dire pareggiare e quindi bloccare la crescita ulteriore del debito non solo rispetto al PIL ma secondo dentro questo bilancio pubblico ho riequilibrato tanti tanti buoni produttivi investimenti pubblici che hanno un formidabile come Kenzi ha spiegato potere moltiplicativo ma anche favoriscono la crescita produttiva però se non aumentiamo il deficit e lei vuol far fare investimenti pubblici significa che bisogna dare un taglio alla spesa corrente sì è anche un taglio all'evasione che è scandaloso nel nostro paese io da ragazzo facevo ci fosse stato un governo che non l'abbia detto ma ci fosse stato anche un governo che l'abbia fatto però adesso è possibile anche perché il disavanzo non è enorme in particolare quello strutturale che è quello che conta perché è al di sotto del 2% del PIL quindi parliamo di non so 30 miliardi sì quindi sarebbe possibile appunto dicevo io da ragazzo facevo con pessimi risultati il pilota da rally quindi bisogna fare il punto e tacco arriviamo alla curva frenavamo e acceleravamo per derapare quindi bisognerebbe sì per esempio ridurre certe voci di spesa corrente che hanno un effetto demoltiplicativo basso sulla domanda 06 07 e accelerare tipo facciamo un paio di esempi beh acquisti di beni servizi i fornitori lucrano con prezzi esosi una percentuale del totale del prezzo molto alta ci sono molti trasferimenti di varia natura riducibili sulla cosiddetta lotta l'evasione è assolutamente possibile oggi dal punto di vista tecnico organizzativo sappiamo tutto sull'evasione e sugli evasori quindi è solo una questione di volontà io penso di avere proprio sì forse questo governo è in animo di fare qualcosa non so io non seguo moltissimo quindi la seconda degli investimenti pubblici anche perché al di là degli effetti economici io lo dico da tanti anni se piove la gente muore non a Roma stasera ma insomma se c'è il te io sono aquilano capisco ne abbiamo parlato con Bertolaso la settimana scorsa immagino e potrei continuare quindi questa è la seconda la terza una frustata nelle chiappe delle imprese italiane si chiama concorrenza in marie forme perché si ricordi loro che la produttività appunto è di sub to them sono loro che devono stimolarli eh sì perché se gli si prospetta il profitto facile ovviamente non si impegnano la quarta abbiamo un problema di distribuzione del reddito molto serio in Italia in particolare il mezzogiorno è molto sperequata e al di là dei profili di non so etica degustibus moralità il punto è che vengono tagliati fuori dalla possibilità di dare il massimo contributo alla crescita dell'economia a tante persone specialmente giovani specialmente giovani ma non soltanto ma la risposta è il reddito di cittadinanza ma guardi io insomma lì non conosco bene i dettagli forse non li conosce nessuno ancora forse neanche di chi ha molto dipenderà da come sarà configurato i poveri ci sono su questo non c'è dubbio e quindi si può capire certo però occorre la copertura come ho detto all'inizio e si potrebbe trovare ero alla quarta concludo con la quinta la sesta e la settima la quinta è il mezzogiorno insomma non abbiamo nemmeno più una storia da raccontare su questo problema ridiventato drammatico almeno l'intero il divario si è allargato ulteriormente ecco il divario di per sé appunto noi ragazzi abruzzesi non ce ne fregava nulla negli anni 60 che i nostri coetanei milanesi avessero un reddito più alto contava il fatto che il nostro reddito e le nostre opportunità di lavoro progredissero la sesta non me la ricordo mi ricordo bene la settima che cos'è la settima? la settima è l'Europa qui entriamo la settima è l'Europa il medio stress perché e principalmente la Germania io mi sono affaticato in un altro libro di Donzelli mi ricordo ne abbiamo parlato qua ecco e appunto vorrei andare a cena con la cancelliera lo dico sempre di cui per la quale si sbrighi perché fra un po' infatti si insomma fra un po' mi sa che non la trova più perché la politica economica tedesca a mio avviso ha inflitto al popolo tedesco in primo luogo una crescita bassissima dell'economia quindi perdita di pillo straordinaria per vent'anni questo trasferimento di risorse reali al resto del mondo attraverso questo smodato avanzo di bilancio dei pagamenti di parte corrente quelle sono risorse reali che non sono state impiegate in Germania ma chi sa dove terzo a fronte di questi surplus di parte corrente o commerciale della bilancia dei pagamenti naturalmente la Germania si è accreditata verso l'estero e in particolare sugli investimenti di portafoglio hanno subito perdite per centinaia di miliardi di euro semplicemente perché il tasso di interesse o il rendimento basico è basso quindi hanno cercato dei rischi e hanno perduto e quindi cancelliera perché? più in generale io non credo molto io temo che sarà sostituita da qualcuno che farà anche peggio di lei speriamo di no perché lei è straordinaria a mio avviso questo milione di persone che si è preso di immigrati è stata una decisione però appunto a quel milione poi deve dare il lavoro è vero che il tasso di soccupazione in Germania è basso però arriva un extra milione e quindi una crescita più rapida che naturalmente si riverbererebbe ma lei non farebbe cambio tra la condizione nostra e quella tedesca? ma ovviamente no però guardi no? no insomma no perché questa economia italiana ha le potenzialità maledizione per crescere rapida e anche i bisogni sono 25 anni però come abbiamo visto lì guardi loro sono cresciuti 1,4% l'anno per 20 anni dall'euro ad oggi per le ragioni a cui ho brevemente all'uso noi siamo cresciuti 0,7% ma avremmo potuto e potremmo eh certo certo senta quanto per venire all'attualità quanto rischiamo che che la che questa frenata che abbiamo registrato ultimamente ci porti prossimamente in una zona recessiva e quindi che passiamo dalla stagnazione alla recessione io credo nell'acquisito ciclicamente noi non conosciamo il dato sul quarto trimestre del 2018 ma molto probabilmente l'Ista ci ha già fatto capire che insomma sì vabbè ma al di là dell'Ista 0% è quasi certo potrebbe anche essere un numero lievemente negativo quindi noi entriamo nel 2019 con un trascinamento nullo spinte autonome non ce le abbiamo e se facciamo tre trimestre negativi uno dietro l'altro e recessione sì rischiamo una recessione nel senso non tecnico banale addirittura di una lieve pressione certamente avremo una recessione nel senso non banale di un rallentamento però come dicevo nel mio editoriale l'altra volta non che il malcomune sia mezzo gaudio ma insomma c'erano delle spiegazioni la crisi mondiale del 2008 la crisi europea del 2011 eravamo insieme nel mazzo cogliati qui stavolta siamo è vero che tutti rallentano ma nessuno ha crescita a zero comunque la previsione di PIL mondiale del Fondo Monetario è ancora molto buona siamo 3,6-3,8% grazie a Cina e India arrivano pure però sì sì è davvero molto spiacevole perciò ho parlato di bottiglia anche perché io veramente non voglio entrare anche perché non conosco le carte nella impostazione della politica economica istituzionale del governo italiano attuale ma la impressione che battano ancora la strada battuta dai loro predecessori trasferimenti diamo un po' di soldi e vediamo se li spendono ha fatto già Renzi con gli 80 euro senza investimenti pubblici che sono the crux insomma la questione quello è la cosa che può fare la differenza la politica del mettere un po' di soldi in tasca e sperare che si trasformino in consumi non molti non moltiplica molto poco anche il bonus ex post non so 0,3 0,4 di effetto moltiplicativo e quindi la querelle che abbiamo in questo momento con Bruxelles mi sembra un po' paradossale perché c'è una differenza di previsione sulla crescita tra l'Italia e la Commissione Europea ma pur sempre anche loro ci danno in crescita mentre qui stiamo parlando del fatto che rischiamo 0,0 o addirittura 0 quindi potrebbe verificarsi una situazione ancora peggiore di quella che la Commissione correggendo i nostri calcoli ci dice che noi siamo stati troppo ottimisti ma forse anche loro rischiano di rivelarsi troppo ottimisti sarebbe paradossale lei se dovesse dare un suggerimento in questo braccio di ferro con l'Europa il mio suggerimento a chi governa il nostro paese l'ho già praticamente detto insomma in concreto anche tenendo questo punto fermo dell'indebitamento netto rispetto al PIL del 2,4 famoso 2,4 si potrebbero limare quanto meno rimmiare alcune spese inutili sprechi correnti le chiami come vuole e aggiungere a quello 0,2 di PIL di investimenti pubblici previsti qualche ulteriore decimale questo forse basterebbe per passare la forca caudina anche perché è vero che il nostro disavanzo è minore di quelli che altri paesi hanno sperimentato insomma che grandi paesi europei per molti anni si sa cosa succedeva però in modo peggiore mi scusi per il mestiere che ho fatto per anni quei luoghi li ho dovuti frequentare retoricamente il modo peggiore è l'attacco ecco appunto e di solito cosa si faceva si mettevano dei numeri che a Bruxelles andavano bene poi si sforava allegramente ma lo si faceva si vedeva ex post e quindi alla fine si però è anche molto questione di stile mi creda è molto importante cioè secondo lei il fatto di averli mandati a quel paese cioè il modo migliore di ottenere è di non chiedere come spesso accade anche nella vita senta lo spread che oggi naviga intorno ai 3,20 stamattina ha aperto 3,24 le dà ansia o guardi o addirittura attacchi di panico visto che poi parleremo di attacchi di panico non ci sente nessuno lo spread conta molto meno del livello del tasso di interesse quello che conta è il livello del tasso di interesse cioè se la Germania avesse un tasso reale di interesse negativo nel nostro spread fosse ancora più grande di quello attuale ma il livello del tasso fosse relativamente basso questo 3,50 mi pare che più o meno non è ancora drammatico però può diventarlo come l'esperienza ci insegna può diventarlo facilmente nel volgere di ore può diventarlo se Draghi non dovesse riuscire a protrarre oltre la fine dell'anno la politica monetaria diciamo virgolette facile espansiva che ha adottato fino a qua ma guardi di nuovo non ci ascolta nessuno il tasso a lunga non dipende da ciò che fanno le banche centrali va beh ed è lo stesso nel mondo quello basico al netto del rischio quindi non è che Mario comprando titoli italiani butta giù no di molto il tasso a lunga il suo spread rispetto alla Germania è una questione di aspettative no cruciali come Keynes insegnata però io tutte le mattine apro il il computer sull'andamento dello spread e vedo che parte sempre alto poi evidentemente la BCE compra un po' di titoli scende poi risale no non è così è un mercato visto all'esterno non so relativamente benevolo se vogliamo parlare di spread io davvero temevo che sarebbe cioè nel 2011 sono stati più cattivi e beh sì però eravamo in condizioni molto peggiori molto peggiori se lo ricorda quel disavanzo pubblico e come no e come no ben peggiori senta secondo lei gli imprenditori da che cosa potrebbero essere attratti da mettere in mano il portafoglio c'è sempre questa grande questione del buttiamo giù le tasse e magicamente arriveranno gli investimenti privati lei ci crede? no no perché ho detto prima che il problema è di domanda effettiva quindi gli imprenditori investirebbero e occuperebbero se solamente se beh però c'è la domanda mondiale c'è l'esportazione non c'è mica sulla domanda interna va beh lì guardi secondo me è esagerata la positiva visione della performance dell'esportazione italiana se lei tiene conto anche delle importazioni e fa il saldo netto che ciò che conta ai fini del contributo di domanda non c'è tendenzialmente per vent'anni la riduzione delle imposte anch'essa come l'aumento della spesa corrente ha effetti moltiplicativi che sono inferiori alla metà di quelli dell'investimento pubblico quest'ultimo moltiplicatore è 1,5 1,9 nel sud cioè se li fai al sud 1,9 è moltissimo è certo e invece la riduzione dell'imposto effetto traino è molto grande sì è 0,6 torno al punto e tacco la composizione del bilancio è decisiva ma andiamoli a fare un po' di scuola di rally adesso le automobili sono cambiate abbiamo finito il nostro tempo però io voglio concludere approfittando anche che in prima fila qua ascoltarci c'è Giorgio Lamalfa e anche perché molto più modestamente di voi due mi sento anch'io che inesiano non crede che ultimamente ci sia un sacco di gente che si è riscoperta che inesiana ma magari che non ha manco letto dice un po' di castronerie in nome Keynes non era lo spendacione a cui molti pensano era per il pareggio del bilancio in particolare la parte corrente del bilancio e predicava investimenti pubblici perché era per il pareggio del bilancio perché da grande analista di finanza era pienamente consapevole del fatto che il debito pubblico è una mina per la stabilità finanziaria e quindi reale di un'economia quindi questi di Keynes proprio e Giorgio credo che stia per dare un grosso contributo esatto l'ho detto anche perché appena sarà pronto appena sarà pronto verrà a presentarlo qui allora non vi fate spaventare dal fatto che il linguaggio di Ciocca sia un linguaggio ovviamente da economista che dà per scontate un po' di cose perché il suo libro si legge con una certa facilità e con grande interesse tornare alla crescita scriviamolo facciamo delle cose cubitali grazie a Luigi Ciocca di essere stato con noi diamo la mano al picco la pubblicità state con noi a tra poco bentornati a Roma incontra è un amico che ci viene a trovare confermando che di solito si occupa di politica e lo leggiamo leggiamo molto volentieri i suoi editoriali sul Corriere della Sera ma ormai come scrittore si occupa di cose chiamiamole così più più intimistiche è Antonio Polito salve buonasera allora Antonio Polito ha scritto un libro per Marsiglio che si chiama prove tecniche di resurrezione come riprendersi la propria vita Gesù mio resurrezione sei andato sul eh ma tu sei rinato perché stai rinascendo vuoi rinascere ho risorto eventualmente ho risorto di sto facendo uno sforzo di resurrezione beh il libro è molto anche un po' autobiografico io mi ho domandato con la barba lì cosa voleva dire ecco adesso ho capito che ma tu lo sai che una volta lo racconto nel libro che una volta in una trasmissione televisiva penso che fosse porta a porta nella pausa c'era Berlusconi mi si è avvicinato mi ha preso mi ha portato da parte in un angolo e mi ha detto si tagli quella barba poi si è guardato intorno circospetto e ha fatto è bianca perché la sua repulsione per il colore bianco è tale per l'invecchiamento sì e infatti lui insomma all'età che ho io adesso lui ha cominciato ad ingiovanire ma lui le prove tecniche di resurrezione le ha fatte diciamo non lo so ognuno ha le sue ma riprendersi la propria vita da cosa? dall'alinazione beh sì beh questo è un termine marxiano marxiano certo perché no e infatti marx parlava del tempo liberato diciamo di cui l'uomo l'essere umano deve poter godere per avere una vita piena non tempo libero nel senso banale del termine l'alienazione cioè tutte le cose che facciamo senza volerle fare senza avere più voglia di farle ma forse le facciamo perché dobbiamo sì ci sono dei doveri ovviamente però ci sono tante cose che noi facciamo per abitudine per come dire per stare al passo con gli altri perché sennò sembra brutto perché le abbiamo sempre fatte e questi ci fanno soffrire devo dirti che io quando vent'anni fa mi sono di rigolette messo in proprio e ho smesso di fare e tu sei un esempio di risolto ho capito in quel momento in quella mia nuova vita che andavo facendo quanto tempo avevo buttato via per esempio nelle famose riunioni di redazione aziendali nei giornali tanto più poi avendo responsabilità direzionali facevi un sacco di robe che francamente non è mica solo nel lavoro è anche nella vita personale per esempio secondo me noi frequentiamo abbiamo delle conoscenze di cui siamo stancati qualcuno di voi ha un amico una conoscente di cui si è stancato eppure lo vede ogni settimana cioè perché? io mi domando perché Ulef ma è ovvio ma è ovvio che ce l'hanno ce l'abbiamo tutti ma magari pensano chi ha il marito chi ha la moglie però vorrei adesso fare anche lì io propongo una tecnica ah sì? eh dici dici beh conviene re-innamorarsi ah certo lasciarsi andare no conviene re-innamorarsi della moglie o del marito ah re-innamorarsi della moglie del marito ha ricominciato a zero certo perché è l'unico modo di fregare la noia la sopportazione soprattutto di evitare stasera andate a casa e vi presentate è piacere ci lavorate vorrei uscire con lei vorrei uscire con te cioè ci lavorate non è una cosa tutta la mia proposta è una proposta impegnativa di fatica di impegno di lavoro non è mollare cioè Jack Ma sapete il miliardario americano si è dimesso da tutto ha detto io adesso a 56 anni me ne va perché non voglio morire in ufficio voglio morire su una spiaggia vabbè quello ha 40 miliardi 45 miliardi di dollari di patrimonio lo può fare è pure comprata la spiaggia invece io propongo un percorso un pochino più possibile però anche impegnativo perché se no se non ti rinnamori di tua moglie o di tuo marito finisce che poi cominci a correre a fare delle cose poco dignitose di poca soddisfazione devo dire che quelli della nostra tra me e lui c'è un anno c'è un abisso ha capito no c'è un abisso diciamo a favore tuo no anche a favore io c'è un anno di più ma ma però come dire quando vediamo perché in questo lo condividiamo quando vediamo i nostri coetane che vanno in giro con queste sgallettate i 40 anni di meno che insomma francamente magari c'è c'è un po' di invidia lì per lì però poi sai che c'era un c'era un un inglese credo che diceva la fatica è tanta il piacere è poco e la posizione è ridicola senti ma i figli però i famosi piazzecore come dite voi napoletani questo è il problema forse più grosso per per ci hai dedicato anche un libro tu quindi eh sì è il problema più grosso però io penso che anche qui noi andiamo avanti un po' d'inerzia nel senso che non sempre decidiamo e non sempre facciamo le scelte razionali che andrebbero fatte anche diciamo in economia e così anche la nostra vita privata nel senso che molto spesso non molto spesso spesso per non esagerare la ragione per cui i figli hanno ancora bisogno di noi a 30 anni siamo noi che vogliamo ancora occuparci di loro cioè un gioco psicologico abbastanza creiamo le condizioni per essere indispensabili perché è vero che questo è un paese che purtroppo soffre di una stagnazione tale e soprattutto anche quando c'è la crescita di a poca bassa occupazione per cui i ragazzi stanno in casa ormai fino a 30 anni oltre quindi questo è un problema però è un problema che non dobbiamo come ti posso dire noi genitori non dobbiamo accettare con quel gesto di rassegnazione in realtà autocompiaciuto che abbiamo ancora qualcosa da fare perché ci riteniamo e abbiamo paura il nido vuoto perché poi questa è la cosa nel senso che alcune volte per esempio negli Stati Uniti c'è tutto un dibattito in corso sul fatto che è pericoloso che i figli diventino dipendenti i ragazzi diventino dipendenti anche economicamente dai genitori perché la dipendenza è sempre un pericolo la dipendenza dalle droghe la dipendenza da qualsiasi forma compreso quello della dipendenza economica quindi un po' una spinta a un'emancipazione nostra dei figli se i figli non riescono ad emanciparsi da noi forse dovremmo provare noi l'operazione inversa e comunque non usarlo come un alibi senti tu ti sei preparato perché siccome ti mancano ancora ti manca ancora un pochettino alla famosa battuta di Jeb Gambardella protagonista della grande bellezza che dice la più consistente scoperta che ho fatto dopo aver compiuto 65 anni quindi non ci siamo ancora arrivati ma la scoperta mi sa che l'abbiamo già fatta è che non posso più perdere tempo a fare cose che non mi va di fare questo è stato il... quando è che ti sei gambardellizzato? però adesso io voglio precisare una cosa ti si è acceso una lampadina un giorno e ho detto adesso va uso questa voglio precisare una cosa perché in realtà questo modo di dire non voglio più fare le cose che mi va di fare potrebbero corrispondere al teorema Scalfari quello che lui ha detto una volta parlando con la Grube gli ha detto ma lei ma quei l'attaccano lui ha detto guardi è arrivato quando uno arriva a 90 92 è uno che se ne fotte e va bene e questo è giusto a 92 anni però la mia proposta non è semplicemente me ne frego e non cioè la mia idea è che facendo alcune di queste scelte alcune sono per esempio non so per esempio il giving back cioè restituire un po' di quello che ha avuto alla comunità da cui provieni facendo alcune di queste scelte tu produci anche un incremento del benessere collettivo cioè non sono scelte necessariamente egoistiche non sono scelte necessariamente di rifiuto di ritiro per esempio se tu rinunci a quel conoscente che non ne puoi più di vederlo ma magari conosci un'altra persona hai l'occasione per aprirti a una persona che non hai mai visto invece di uno che da 20 anni vedi ogni settimana e dice sempre le stesse cose e così anche per quanto riguarda l'uso del proprio tempo se lo emancipi dalla cura dei figli puoi restituirlo in tanti altri modi anche con i figli degli altri per esempio tu tra l'altro c'hai figli abbastanza piccoli e appunto io ho figli piccoli sei tardivo e questo io dico che tutti mi dicono tu si ringiovanisci perché siccome ho avuto dei bambini a 53 anni adesso c'erano 9 anni due gemelli tutti mi dicevano tu così ringiovanisci vedrai restare sempre invece no io mi sento in una condizione perché mi dico ma quando è che io arriverò al punto che non dico me ne fotto ma insomma mi posso staccare dagli obblighi del produrre reddito dell'accudimento e così via allora c'è mio figlio che mi dice dice ma tu papà ogni tanto ci pensa lui dice ma tu quando tu morirai io quanti anni avrò allora io faccio tutti dei calcoli complicati gli faccio delle ipotesi molto ottimistiche insomma no dico non so tu avrai la buona napoletana immagino che la fai col corno in mano non so se io muoio a 90 anni ma pure al 100 c'è un percento 100 ci sono 53 anni di differenza quindi tu ne avrai 47 e lui gli dice 47 e lui mi guarda e fa così presto ma tu mi dovevi fare prima perché io ti dovevo godere di più questa sensazione che in realtà non è mai abbastanza presto quando hai figli così piccoli non è mai abbastanza tardi quando hai figli così piccoli mi angoscia un po' e mi ha fatto invece fare i conti con l'invecchiamento prima di quanto io prevedessi quindi appunto non si può dire a me è successo vabbè un po' come succede a tutti sai quando muore un genitore quando muore un genitore tu a un certo punto ti guardi allo specchio la mattina è invece di riconoscere il te diciamo così arrogante sicuro di sé pieno di forze di energie che senti ancora dentro di te che ancora ti rugisce dentro e vedi nello specchio tuo padre proprio vedi l'occhio umido quel senso di fragilità di tuo padre da vecchio per un attimo hai il bagliore del tuo futuro questo è un momento in cui Vittorio Feltri presentando il mio libro a Milano ha raccontato che una volta Gaetano Feltri un grande giornalista con un columnist napoletano anzi amalfitano credo gli raccontò questa cosa dice ma io tenevo uno spiecchio a nanzoliette no la mattina ma iz sta capo è morto in due spiecchie mamma mia è una paura allora lui ha risolto togliendo lo specchio perché è tipico di un napoletano io invece che sono un altro genio napoletano ma se vado a crescere la barba così non ti devi neanche guardarti allo specchio io no io invece ho detto facciamo i conti con lo specchio appunto facciamoci crescere la barba però il confine tra questo e la deresponsabilizzazione sai questa è una stagione che almeno dal punto di vista collettivo è all'insegna della deresponsabilizzazione questo è vero tu parli del mio impegno politico e civile? per esempio ma sai lui ha fatto anche un giro da parlamentare quindi sì breve non si è fatto a mancare niente per fortuna breve ma indimenticabile per me guarda questo è un punto molto delicato che hai toccato perché io la risposta standard che do a un'obiezione del genere è questa che in realtà ciò che sarà il paese ciò che è il paese ciò che sarà il paese sì certo sarà determinato dalle scelte dei politici del governo della politica economica eccetera ma poi alla fine sarà determinato dalla fiducia delle persone delle famiglie delle imprese la somma dei comportamenti dalla somma dei comportamenti infatti secondo me questo è un libro politico infatti io lo penso pure questa è la risposta standard lo penso anch'io cioè in realtà tu occupandoti della vita delle famiglie dei rapporti personali eccetera puoi contribuire in piccolo ovviamente alla costruzione di un paese un po' diverso da quello che hai davanti e quindi forse anche più efficiente come comunità e come collettività questa è la risposta standard senti ma a proposito sei venuto qua Ceccarelli che ha presentato il suo libro da De Gasperi a questi qua l'ha chiamati questi qua tu quando guardi questi qua avendo visto quelli là io De Gasperi proprio non ho ancora non ci arrivo però non ho sentito parlare ne ho letto ma sai io ho cominciato col papà di Giorgio la Malfa capisci che capisci che tutto quello che è venuto però ti posso dire una cosa e che ci sia un decadimento della qualità della nostra dei nostri politici mi pare che non c'è bisogno manco di dirlo però a noi che abbiamo una certa età qualsiasi cosa anche se non fosse così decaduta ci sembrerebbe decaduta rispetto a prima ma è l'effetto nostalgia perché invecchiamo o c'è la differenza oggettiva ti faccio un esempio quando nel 94 è cambiato l'intero Parlamento italiano è entrato il 70% di parlamentari nuovi noi dicevamo dei parlamentari nuovi che sono arrivati le stesse cose più o meno che diciamo dei 5 Stelle che sono entrati in Parlamento adesso io mi ricordo li chiamavo Bellus Clones diciamo c'era una uguale polemica poi quel sistema politico ha dimostrato diciamo così nel bene e nel male intanto una durata vabbè sai poi sai chi si salva sono pochi torniamo a De Gasperi quindi non è tanto l'impreparazione non è tanto l'inesperienza che è anche comprensibile eccetera quello che è pericoloso secondo me è l'ideologia cioè l'idea per esempio che l'inesperienza sia un valore che viene detta apertamente cioè no cioè l'idea che uno vale uno perché se uno vale uno allora non c'è manco bisogno che mi metta a studiare a prepararmi a capire perché tanto se io dico una cosa e tu ciocca ne dici un'altra e vada la stessa cosa sull'economia che mi metta a studiare a fare l'economia non c'è bisogno è questo che io trovo pericoloso l'ideologia che c'è dietro che è molto costruita sulla grande novità del secolo che è la piazza dei social la piazza elettronica è lì che uno vale uno ed è infatti lì che il dibattito pubblico è scaduto a livelli impressionanti se tu riprendi quella 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 filosofia per fare i gossi per fare fake news scemenze dette ognuno dice una cosa e tu se la contesti con un dato non vale niente perché tanto c'è sempre un altro dato che viene da un'altra diciamo così da sottoterra da questo web profondo dove emergono ogni tanto dati che non sai chi li ha detti come sono tirati fuori da chi sono giustificati e quindi sì ormai non c'è più il dibattito pubblico non c'è più la sfera pubblica perché non puoi più confrontare posizioni nel senso che le posizioni sono tutte valgono tutte nello stesso modo è questo spaventoso ed è questo che non può funzionare in un paese moderno per chi governa senti si è detto che 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 una responsabilità o comunque un motivo per cui questo è successo è perché a un certo punto la borghesia italiana non non cosciente del proprio ruolo storico che che dovrebbe avere diciamo ha mollato gli ormeggi si è messa nel campo del disinteresse fate voi che intanto io lo lavoro nel mio privato la piazza di Torino da questo punto di vista ti ha dato qualche segnale diciamo di inversione di marcia oppure siamo nel campo delle pie illusioni secondo me la piazza di Torino è quello che gli inglesi chiamano un game changer cioè una cosa che cambia i termini del gioco politico per un periodo consistente ha spaventato moltissimo come la marcia dei 30.000 di 40.000 scusa non come quella che misero in ginocchio il PC e il sindacato però insomma ha certamente spaventato la Lega perché quello è il mondo suo è il nord eccetera eccetera e infatti questo contrassalto sui termovalorizzatori della campagna secondo me ha un nesso col tema opere pubbliche in casa di Di Maio detto in casa di Di Maio e ha spaventato anche i 5 stelle la borghesia guarda io durante la campagna elettorale sono capitato per caso e poi ne ho scritto un articolo nel circolo del tennis di Avellino che è il circolo della borghesia di Avellino la borghesia di Avellino non sarà una borghesia produttiva come quella milanese però c'è una borghesia e come e che era stato praticamente conquistato dei 5 stelle in campagna elettorale e io l'ho scritto l'ho raccontato guardate sta succedendo qualcosa di clamoroso cioè la borghesia meridionale che tradizionalmente è governativa e diciamo moderata in un dibattito familiare vedi come contano le famiglie dove tra figli e padri hanno vinto i figli e la borghesia meridionale si sta spostando completamente dalla parte dei 5 stelle sarà una valanga è arrivata la valanga perché il grande tema che ha spaventato diciamo così ma adesso se tu tornassi in quel posto lì troverai lo stesso clima lo vorrei fare tra l'altro la cosa curiosa noi tutti parlavamo prima degli impreparati bisogna stare attenti perché i 5 stelle eletti nelle liste proporzionali sono abbastanza impreparati perché in genere sono persone dovevano compilare queste liste certe volte hanno eletto più persone di quando stanno nelle liste per cui veramente è entrato di chiunque la pedicure tutto però per esempio nei collegi nominali dove invece Di Maio ha fatto una cernita che ha potuto fare lui perché si è preso il diritto di farlo non è mica vero per esempio da Bellino hanno eletto un professore universitario un associato e così via se va in giro per l'Italia beh oddio se vedo Toninelli pugno chiuso o meno ma Toninelli è della prima ora diciamo è Toninelli è antemarcia è Toninulla capito senti come va a finire? adesso torna a fare l'editorialista del Corriere della Sera come va a finire? guarda c'è la famosa legge di Murphy che dice che se una cosa può andare male andrà male quindi questo rischio è molto elevato è molto elevato per le tensioni che si stanno creando sui mercati finanziari ma il tema è il quando però più che il se ma una volta ho chiesto a Tremonti mi ha risposto ma sai io più dell'infarto prevedo un cancro cioè più di una diciamo di una botta improvvisa come è stato nel 2011 che c'è stato l'infarto io prevedo un cancro cioè vedi da quanto tempo ormai lo spread è a 300 ci facciamo ormai l'abitudine da quanto tempo arrivano gli stranieri e si comprano non per tantissimi soldi le nostre imprese migliori le più belle ma anche le piccole l'albergo tutto quello che anche qui torniamo alla famiglia tutto quello che l'impresa familiare non riesce a passare alla generazione successiva perché magari i figli non vogliono perché fanno altri mestieri e così via cioè l'impoverimento complessivo del paese è in corso da tempo può accelerare ancora naturalmente può esserci anche l'infarto finanziario perché noi siamo abbiamo questo grave aritmia cardiaca che è data dal debito per cui è chiaro che noi rischiamo però io vedo più una diciamo così un radicalizzarsi un incancrenirsi di uno stato di declino del paese ma se Salvini si è spaventato di Torino potrebbe pensare di infartare lui il governo? guarda Salvini ormai se tu parli anche in pubblico con i leghisti ti rispondono dubito che loro certe cose non le farebbero mai fosse per loro o male devono fare perché tra l'altro la situazione del governo è curiosa riferendosi a quello che i 5 Stelle portano o tolgono dalle decisioni tipo le infrastrutture esatto le infrastrutture i tagli la flat tax vi ricordate la flat tax è stata la cosa più cercata su Google in campagna elettorale non è rimasto traccia assoluta perché si è capito che non si fa eppure la flat tax adesso può essere favorevole o meno comunque un forte taglio di tasse sarebbe stato quindi secondo me loro sono perfettamente consapevoli tra l'altro è successa una cosa curiosa in questo governo perché nel giro di pochi mesi il senior partner quello più grosso è diventato il junior partner nel senso che si sono capovolte i rapporti di forza tra i due tra i due partiti secondo me io penso che la scadenza delle europee salvo incidenti clamorosi di percorso sconsiglia a Salvini oggi di aprire una crisi teniamo presente che se si aprisse una crisi bisogna trovare un'altra maggioranza secondo me si trova in questo Parlamento però bisogna trovare un'altra perché il capo dello Stato sarebbe irremovibile a non mandare tutti alle urne? no beh perché siccome l'unico che ci guadagnerebbe con le nuove elezioni è Salvini è evidente che tutti gli altri non gli danno lo scioglimento cioè non ci può essere uno solo che vuole lo scioglimento e tutti che si accodano quindi non è soltanto volontà di Mattarella senti in conclusione se si dovessero se tu dovessi dire come fare le prove tecniche di resurrezione non ai singoli ma alla collettività al paese cosa consiglieresti? il tuo editoriale è la ricetta di ciocca perfetto siamo a posto grazie Antonio Polito di essere stato con noi grazie a voi leggete il suo libro perché merita veramente diamo una mano al picco alla pubblicità tra poco bentornati a Roma incontra da noi vengono veramente tante persone ma ci sono dei momenti nei quali sono particolarmente orgoglioso e questo è uno di di quelli è uno scienziato di prestigio mondiale è una delle massime autorità nel campo della neurobiologia vegetale professore associato alla facoltà di agraria all'università di Firenze insegnato all'università giapponesi svedesi e francesi accademico dell'accademia dei georgofili ha un sacco di altri titoli Repubblica lo aveva inserito qualche anno fa nella lista dei 30 italiani destinati a cambiarci la vita del professor Stefano Mancuso il professor Mancuso ha scritto questo bellissimo libro bellissimo anche perché è corredato di bellissimi acquarelli quindi vi consiglio molto di guardarlo in cui ci racconta l'incredibile viaggio delle piante sostanzialmente se non ho capito male lei equipara il mondo vegetale a quello animale umano cioè dice con le sue caratteristiche ma non è di serie C no assolutamente le piante fanno praticamente le stesse cose che sono in grado di fare gli animali in una maniera diversa questa è la questione affascinante che si accoppiano pure si accoppiano pure certamente la questione del sesso delle piante è una questione antica pensi che nell'ottocento il primo scienziato che poi era anche un prete che o so dire che nelle piante c'era appunto una riproduzione di tipo sessuale fu allontanato diciamo dalla sua posizione di insegnante in un collegio di solito tengono i pedofili e mandano via quelli esattamente ma allora se se il mondo delle piante è un mondo a sé quali sono le principali caratteristiche beh guardi dunque innanzitutto cominciamo col dire che le piante non sono soltanto un mondo a sé sono la vita di questo pianeta a noi si fugge la quantità per esempio il 99 quantità nel senso di tipologia di piante no no proprio di peso peso della vita se si potesse pesare tutti gli esseri viventi sul pianeta il 99 più o meno sono diverse stime ma che girano tutti intorno al 99 99,5 99,7% in peso di tutto quello che è vivo su questo pianeta è fatto da piante il che vuol dire poi anche una maggioranza assoluta ma sì diciamo una bella quota di mercato noi siamo sullo 0,3% siamo abbastanza ininfluenti in termini di vita vedi se ci fosse una democrazia che mette dentro anche animali e piante saremmo fregati insomma senta ma lei dice che le piante si muovono infatti non a caso il viaggio delle piante si muovono uno pensa che la pianta lì sta perché noi siamo animali noi diciamo abbiamo il movimento ce lo abbiamo proprio nel nome stesso animale vuol dire animato che si muove e risolviamo tutte le nostre cose attraverso il movimento immaginiamo che le piante siccome hanno dei tempi diversi invece siano degli organismi passivi statici la questione non sta affatto in questi termini le piante si muovono tantissimo la definizione corretta di piante non è che non si muovono le piante non si spostano dal luogo in cui sono nate almeno nel corso della loro vita nel corso delle generazioni invece vanno in giro e conquistano ogni singolo luogo del mondo è interessante questa questione ma quando sono piantate là si spostano però certamente si muovono si muovono molto si muovono molto è interessante pensare che le piante sono in grado di risolvere problemi e di avere dei comportamenti non spostandosi così come facciamo noi lei immagini di dover risolvere un qualunque problema che riguardi ovviamente la sopravvivenza senza potersi spostare dal luogo in cui è nato come fa a difendersi a comunicare a riprodursi ad avere una vita sociale è assolutamente impossibile soprattutto perché noi animali tendiamo a dire che abbiamo risolto un problema quando in verità lo abbiamo evitato cioè noi tendiamo a usare il movimento per evitare i problemi quindi che ne so uno slavo eh sì qualcuno ci vuole mangiare scappiamo fa caldo andiamo dove fa freddo non c'è fame abbiamo fame si spostiamo dove c'è da mangiare eccetera eccetera le piante non hanno questa possibilità le piante devono realmente risolvere il problema il che vuol dire devono se non c'è acqua se devono difendersi se devono accoppiarsi se devono avere una vita sociale come hanno scusi questa storia dell'accoppiamento ma la deve spiegare perché e beh come io non ho mai visto due piante poi metta che uno sia un cactus è un casino le piante le piante diciamo usano usano dei vettori per portare i propri i propri gameti da una pianta all'altra però devono comunque e per farlo devono anche ingannare devono ma tra di loro si parlano ma certamente hanno un hanno un linguaggio hanno un linguaggio chimico nel senso che trasmettono informazioni basandosi su molecole chimiche e sono informazioni molto dettagliate un gruppo di piante che è sottoposto a uno stress per esempio oppure che è attaccato da un patogeno o da un predatore che inizia a mangiarli manda dei messaggi che sono percepiti dalle piante vicine di allerta le quali aumentano le proprie difese in previsione poi dell'attacco tra di loro si riconoscono quindi si parlano mentre gli animali e l'uomo li riconoscono moltissimo pensi innanzitutto che fra di loro ma c'è qualcuno che parla anche con le piante lei parla con le piante io parlo ma loro non mi capiscono lo so no no perché mi veniva un po' d'ansia pensare che lei riuscisse a parlare con le piante no mi piacerebbe ma non so benissimo che c'è incompatibilità fra di noi le piante la cosa interessante è che le piante hanno addirittura dei dialetti cioè per cui piante della stessa specie che crescono in luoghi particolari comunicano fra di loro meglio che fra piante della stessa specie che però crescono in luoghi diversi perché proprio emettono delle molecole chimiche che hanno leggere variazioni un po' come le nostre parole sono leggermente diverse si capisce se ne capisce la radice il cactus diventa cactus esatto qualcosa del genere quindi sono intelligenti queste piante certamente dipende dalla definizione chiediamo di intelligenza questo è un punto lei che definizione le dà a proposito delle piante la capacità di risolvere problemi in generale l'intelligenza è la capacità di risolvere problemi e le piante da questo punto di vista sono incredibilmente intelligenti ma non hanno un cervello no la parte affascinante è che non c'è bisogno di un cervello per essere intelligenti non lo dica gli uomini perché già c'è un po' di gente senza cervello che più che altro non lo usano è questo un altro discorso che è un altro discorso e quindi che cosa hanno al posto del cervello che li rende intelligenti hanno un'organizzazione diversa dalla nostra cioè gli animali hanno organi singoli o doppi che svolgono delle funzioni particolari abbiamo due occhi per vedere due polmoni per respirare uno stomaco per digerire un cervello per ragionare le piante non hanno organi singoli o doppi ma il motivo è chiaro c'è un motivo del perché non ce li hanno perché gli organi singoli o doppi sono punti deboli lei immagini se una pianta avesse due polmoni un cervello due occhi il primo bruco che provocasse un buco nel polmone sarebbe sufficiente ad uccidere allora le piante hanno sviluppato un corpo un'organizzazione del proprio corpo che è completamente diversa cioè lì dove l'uomo e gli animali concentrano delle specifiche funzioni negli organi le piante le diffondono sull'intero corpo quindi se vogliamo essere più chiari una pianta respira con tutto il corpo vede con tutto il corpo ragiona anche con tutto il corpo vede con tutto il corpo vede certamente ma ha una specie di sistema nervoso o no? dunque non ha un sistema nervoso ma trasmette dei segnali elettrici in continuazione lungo il corpo che servono ad allertare le diverse parti del corpo che qualche cosa sta accadendo guardi che la questione dell'intelligenza è una questione molto interessante in quanto ovviamente noi uomini riteniamo di essere il meglio che esiste su questo pianeta nessuno di noi alcuni dice no ma nessuno di noi ha dei dubbi su questo se io dicessi ma chiunque di voi pensa di essere meglio di 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 una mucca di un di un albicocco di una felce ovviamente tutti quanti direbbero ma certo che cosa stai a dire Stefano cioè noi uomini alla fine lascia perdere ma non c'è una mucca che è in grado di dipingere la cappella Sistina di scolpire la venere di Milo di produrre la teoria della relatività eccetera però attenzione magari fare il ministro sì però quello si può fare però attenzione perché è una è una forte presunzione questa il sì certamente perché lo scopo della vita è quello di riprodursi cioè di mantenersi in vita pensate l'uomo ha soltanto 300 mila anni e la vita media di una specie su questo pianeta è di 5 milioni di anni quanti di voi penserebbero che l'uomo sarà ancora qui fra 4 milioni e 700 mila anni ho letto ho letto che la dunque qual'era mi dica lei che me lo sono perso ah ecco questo pinus longeva eh longeva quanti anni ha beh i pinus longeva sono che è il più longevo di tutti i pinus sono delle specie che riescono a vivere oltre i 5 mila anni ma a prescindere dall'organismo proprio la specie umana 5 mila sono il doppio più del doppio 5 mila e tanta roba del dopo Cristo eh certo esattamente c'è un singolo albero in Europa si chiama Old Tico che cresce in Svezia che ha 10 mila anni quindi praticamente ha la stessa età della civiltà umana si dice che la civiltà umana sia nata con l'agricoltura la singola pianta una singola pianta la stessa pianta a 10 mila anni senta ma oltre all'intelligenza hanno anche quella che noi chiamiamo sensibilità affettività dunque nel caso se per sensibilità si intende la capacità di sentire l'ambiente che le circonda o anche gli altri esseri viventi certamente di gran lunga superiore alla nostra anche in questo caso e se ci pensate il motivo è semplice perché le piante non possono spostarsi e quindi l'unica loro possibilità di sopravvivere è di sentire che qualche cosa cambia nel loro intorno molto prima di quanto non lo facciano gli animali perché? perché noi alla fine se sentiamo qualche pericolo anche all'ultimo possiamo sempre scappare una pianta se sente un pericolo all'ultimo non può fare assolutamente nulla deve sentire che qualche cosa cambia con grandi anticipi allora una pianta è in grado di sentire almeno 20 parametri chimici e fisici in continuazione le faccio un esempio se sotto questa pedana ci fosse due tonnellate di cobalto noi non lo sentiremmo o di azoto o di altro così come non sentiamo i campi magnetici i campi elettrici eccetera le piante sentono proprio hanno degli organi di senso per sentire tutti questi parametri e tanti altri quindi hanno una sensibilità e una conoscenza dell'ambiente superiore a quell'animale ma sentono anche la musica perché le devo dire che un po' di tempo fa è venuto qui il maestro Vessicchio che dice che alle piante piace Mozart ha detto lui che è un direttore d'orchestra lei che è uno scienziato no dunque le piante non hanno delle preferenze musicali nel senso che se uno fa ascoltare alle piante Mozart oppure i led Zeppelin non cambia molto è la stessa cosa quello che le piante hanno però sono in grado di percepire alcuni intervalli di frequenza soprattutto nel range basso quindi diciamo fra i 100 e i 1000 hertz e c'è un motivo anche del perché per esempio 200 hertz è una specie di firma sonora dell'acqua che scorre quindi le piante quando sentono i 200 hertz immaginano di sentire dell'acqua che scorre quindi dirigono le proprie radici verso questa sorgente sonora certo senta ma la neurobiologia vegetale quindi è tutto quello che studia la cosa che lei ci sta descrivendo si studia le piante come organismi cognitivi cioè in grado di risolvere problemi ma quando è nata questa specializzazione chiediamo una quindicina di anni fa ed è stato lei a sì io diciamo e altri miei colleghi prima non esisteva prima non esisteva e come mi racconta come le è venuta questa cosa insomma guardi allora c'è ammirazione in questa domanda ma si figuri no per nulla si figuri stavo studiando allora il mio stavo facendo il dottorato a quel tempo non quindici anni fa prima ancora ma già durante il dottorato io dovevo uno dei miei compiti era studiare l'attività della radice cioè che cosa e soprattutto come faceva una radice a superare un ostacolo quindi lei immagini un dottorato lei cosa ha studiato? io ho studiato prima agraria e poi ho fatto un dottorato in biofisica allora immagini mia figlia si è narrato in biofisica scusi faccio un po' un altro papà sono contento biofisica alla Humboldt di Berlino brava brava ha preso tutto dalla mamma naturalmente scusi l'ho interrotta ottima università ci ho insegnato per tre anni allora immagini una radice che scende e deve incontrare un ostacolo allora il mio problema da risolvere era come fa a superare questo ostacolo era la teoria quello che si conosceva era che la radice arriva arriva tocca e comincia a fare una cosa di questo tipo fino ad arrivare a un punto in cui può oltrepassare l'ostacolo questa era la teoria quello che ci si aspettava facesse in realtà la radice fa tutta un'altra cosa una cosa incredibilmente interessante cioè immagini che questo sia l'ostacolo se la radice arriva a questa altezza ben prima di toccare l'ostacolo inizia a girare non soltanto inizia a girare ma gira dalla parte più corta quindi gira da questa parte se invece arriva da questa parte ben prima inizia a girare da quest'altra parte e quanto soltanto quando è al centro gira alternativamente o da una parte o dall'altra quindi è in grado di misurare diciamo e quindi diciamo questa cosa mi colpì molto perché non era affatto una risposta meccanica ma era una risposta che richiedeva una conoscenza dell'ambiente e del problema esattamente e quindi diciamo quella fu una specie di rivelazione mi cominciò cominciai a guardare le piante da un punto di vista diverso e quando si inizia a guardarle diciamo senza il filtro animale cioè il problema delle piante è che se le si guarda come degli animali che non si muovono non le si capisce ma se lei si inizia a guardare per quello che davvero sono immediatamente appaiono le loro straordinarie caratteristiche che rapporto ha l'uomo con le piante siamo rispettosi o siamo distruggenti diciamo l'uomo diciamo ha un rapporto pernicioso in generale con la natura crede che di essere il padrone di questo pianeta e questo è un problema è anche come dire il signore della vita e questo è un problema enorme partiamo dal presupposto che Adam e Eva sono venuti prima della pianta della mela del melo che ha dato la famosa mela o comunque diciamo partiamo dal presupposto che tutto il resto del creato sia stato fatto per noi per il nostro uso e quindi sarebbe invece necessario in biologia quindi nei nostri rapporti con la vita una vera e propria rivoluzione copernicana veramente qualche cosa di simile a ciò che fecero Galileo e Copernico che presero la terra che era il centro dell'universo e la misero al suo posto di terzo pianeta di un piccolo sistema solare di un braccio secondario di una delle miliardi di galassie dell'universo ecco la stessa cosa accade per l'uomo l'uomo è una delle milioni di specie che esiste su questo pianeta non in assoluto non la più complessa e non la più evoluta e dovrebbe capire che la propria sopravvivenza e la sopravvivenza delle altre specie nasce proprio dalla rete dei rapporti cioè bisogna mantenere intatto il mondo perché noi possiamo continuare a sopravvivere fra l'altro incidentalmente quando noi diciamo che stiamo distruggendo il pianeta diciamo anche lì una cosa una grossa esagerazione una presunzione noi non stiamo non siamo in grado di distruggere il pianeta o di distruggere la vita noi siamo in grado di distruggere noi stessi la vita ci sopravviverà ampiamente in un battito di ciglia per esempio le piante ricopriranno tutti i danni che abbiamo fatto per questo ritengo che sia fondamentale comprendere il nostro ruolo e comprendere che altre specie viventi che ci accompagnano su questo pianeta sono altrettanto abili di noi che noi nel sopravvivere qualcuno parla di rivoluzione vegetale detta così può sembrare un po' eccessiva che cosa cosa consisterebbe questa rivoluzione vegetale non sono d'accordo non esiste una rivoluzione nel nostro concetto auspicata sarebbe auspicabile una rivoluzione nel nostro concetto di vegetale pensi che noi addirittura le piante non le vediamo è una cosa che è stata studiata si chiama cecità alle piante plant blindness noi siamo cechi alle piante e questo è un problema oggi è un problema enorme perché non ci permette di capire come funziona la vita la vita ha necessità delle piante noi uomini noi animali siamo direttamente dipendenti dalle piante anche questo discorso che sembra banale che dovrebbe essere insegnato alle scuole elementari anzi è insegnato alle scuole elementari poi scompare dal bagaglio di conoscenze degli uomini direttamente dipendenti nel senso che non è possibile immaginare una forma di vita animale senza le piante tutto l'ossigeno che noi respiriamo viene dalle piante tutto qualunque cosa noi mangiamo viene dalle piante cioè le piante sono il famoso legame fra l'energia del sole e l'energia della terra trasformano l'energia del sole in energia chimica che noi mangiamo senza di loro noi non potremmo essere cioè allora rispettare le piante è fondamentale nel senso che rappresentano proprio le fondamenta della nostra vita tagliare le piante tagliare i boschi dovrebbe essere dichiarato un vero e proprio crimine contro l'umanità ma nel senso letterale del termine cioè perché è un crimine contro la nostra stessa sopravvivenza lei non accende mai il cammino con una ciocca ma certamente che lo faccio certamente che lo faccio ma no guardi è la stessa cosa dei diritti degli animali gli animali hanno dei diritti questo non vuol dire che non li mangiamo lei non è io no ecco ma io lo faccio per par condigio con le piante ah ecco si figuri senta quell'immagine dei boschi veneti che sono andati giù che cosa lei ha dato mi ha dato proprio l'idea del fatto che la tristezza nel vedere che in tutta Europa ormai non esiste più un solo ettaro di foresta primaria questa è una cosa che non si sa cioè questi boschi qui non sono dei boschi naturali questi boschi sono dei boschi piantati dall'uomo famoso albero rosso l'abete rosso l'abete rosso questi sono quindi dei boschi innaturali e come tali come dire sono anche molto fragili purtroppo ripeto in Europa non esistono più foreste primarie cioè non esistono più dei boschi delle foreste così come erano prima dell'arrivo dell'uomo li abbiamo finiti tutti esistono delle foreste primarie ma non in Europa l'Amazonia per quanto anche lì sembra di no la Patagonia alcune zone della Patagonia siamo molto molto pericolosi da questo punto di vista e quello che si prospetta è un periodo estremamente pericoloso che l'ultimo il nuovo presidente del Brasile è un signore che ha detto che l'Amazonia è di proprietà del Brasile ed è una fonte di materia prima per il Brasile per cui la si può tagliare questo sarebbe una catastrofe di dimensioni bibliche per il nostro pianeta lei lo vorrebbe processare per genocidio sì se abbiamo concluso il nostro tempo ma mi rimangono un paio di curiosità banali la prima è ci sono una serie di locuzioni mi hanno fatto venire in mente i miei colleghi parlando dell'incontro con lei stato vegetativo oppure piantala certo che sono definizioni che da dove vengono che cosa comportano dietro queste definizioni che noi usiamo e che evidentemente peschiamo dal mondo vegetale dipendono e sono la diretta conseguenza di quello che noi pensiamo la nostra ignoranza cioè pensare che essere in stato vegetativo vuol dire non sentire non essere più in grado di percepire ciò che ci circonda stasera abbiamo imparato è proprio l'incontrario esattamente e piantala e beh piantala ma piantala sembrerebbe un augurio io direi ma sì fai piantala col punto esclamativo non rompere più le scatte senta e poi c'è una curiosità personale ma lei a casa ci avrà o diciamo mi piacerebbe avere un grande un grande parco non me lo posso permettere ho un grande terrazzo con coperto di piante certamente dovunque abbia una c'è una pianta rara c'è qualche cosa ne ho anche di rare sì particolari che provengono dai miei viaggi me le porto dietro me le regalano dei miei amici quindi c'è un po' di tutto sì però voglio dire la mia sua moglie è gelosa del suo rapporto con me no diciamo è un rapporto a tre l'ho fatta partecipare oltre che essere bravissimo è anche molto spiritoso questo libro è meraviglioso compratelo leggetelo perché è veramente meraviglioso ci apre un mondo e vorrei nel ringraziare Stefano Mancuso sottolineare come abbiamo degli scienziati di fama mondiale che magari proprio perché perché non sono diciamo avvezzi al divismo magari non conoscevamo ci ha fatto molto piacere di avere a Roma incontra il professor Stefano Mancuso grazie grazie complimenti complimenti grazie diamo una mano al picco la pubblicità state con noi a tra poco bentornati a Roma incontra è un neurologo un divulgatore scientifico e ha scritto per Mondadori un libro sotto forma di romanzo che si chiama Attacchi di panico a un passo dalla libertà Rosario Sorrentino benvenuto allora è un divulgatore scientifico quindi ha scritto già molte cose ma questa volta si è cimentato con con una forma romanzata un romanzo nel quale la protagonista che si chiama Laura è afflitta da quella che chiama la bestia e adesso ci facciamo raccontare cosa vuol dire la bestia dopo un divorzio doloroso comincia ad avere strani malesseri viene diagnosticata ansia da stress invece questi episodi si rincorrono sempre più gravi crisi di panico e si allontana da tutti gli affetti rifiuta i farmaci conduce persino un'esistenza umiliante finisce in mano ai malavitosi e però la domanda finale è se riuscirà a reagire ma ci arriviamo perché adesso intanto ci descriva gli attacchi di panico perché mi ha fatto venire il panico a me leggere il libro quindi un po' di ansia diciamo bisognebbe prima fare la differenza allora ci dica la differenza tra l'ansia e il panico l'ansia è una condizione di vita da cui non possiamo prescindere c'è un'ansia buona quella che ci fa dire devo prendere il treno mi devo sbricare devo fare la valigia un appuntamento quella è l'ansia positiva perché ci consente di diciamo attivare dei comportamenti finalizzati a raggiungere un determinato obiettivo poi quando l'ansia diventa eccessiva ci paralizza è cronica è protratta nel tempo allora già le cose cambiano perché il nostro rendimento mentale cognitivo ne risulta danneggiato beh no l'attacco di panico è qualcosa di di netto è una sbella improvvisa che rompe nella vita di una persona nelle condizioni più svariate mentre in fila al supermercato in banca mentre alla guida della macchina è una cosa on off è un on off perché in un certo senso prima si parlava di biologia e in questo caso di biologia del cervello noi abbiamo pensate nella profondità del nostro cervello abbiamo due mandorline che si chiamano amigdala l'amigdala è un po' l'interruttore di un sistema di allarme dell'istinto più potente e forte che ognuno di noi ha l'istinto di sopravvivenza la voglia di vivere ecco queste mandorline ai lati del nostro cervello fanno sì che all'improvviso si attivi quando il pericolo non c'è quindi si attiva un sistema di allarme che dà dei sintomi la prima volta orrendi paura di morire paura di impazzire tachicardia senso di morte tant'è vero che molte persone la prima volta che sono raggiunti sorpresi da queste sensazioni vanno al pronto soccorso perché sono convinti di avere un infarto di avere un ictus le sensazioni sono talmente forti potenti che noi possiamo distinguere nettamente nella vita di queste persone tra un prima e un dopo ecco ma ci sono dei sintomi che ci possono dire che ci potrebbe stare per succedere? ma no perché la prima volta tutto accade in maniera acuta infatti si parla di disturbo di panico ma in realtà è un attacco di panico acuto cioè estremo tutte queste sensazioni di cui da punto di vista ma ci sarà una graduazione oppure sono tutti uguali gli attacchi di panico? ognuno di loro ognuno di loro ha il proprio repertorio ci sono persone che sentono improvvisamente come se l'esterno della propria percezione iniziasse a cambiare un tuffo al cuore una sudorazione un brillo e poi in pochi minuti l'attacco di panico raggiunge il suo massimo di diciamo di drammaticità perché un attacco di panico può durare pochi minuti può durare anche mezz'ora ma attenzione perché la percezione del tempo per chi vive un'esperienza del genere è una percezione del tempo dilatata la sensazione la persona la racconta come non riuscirà più ad uscire da una sorta di incubo nella quarta di copertina è riportata una frase che dice la protagonista del libro sentivo come se una parte di me fosse uscita da me dal mio corpo e non mi appartenesse più e fosse collocata fuori altrove da dove potevo vedere osservare l'altra parte di me ma dall'esterno da una posizione da una prospettiva diversa ero però consapevole lucida stavo assistendo a occhi aperti impotente a qualcosa di surreale di insolito che somigliava molto a un sogno o a una sorta di sdoppiamento ecco ci pensai ci risiamo è la bestia ecco questo proprio una bestia ecco questo ho usato questa metafora proprio per sottolineare diciamo la malvagità di questa di questa esperienza quello che lei ha letto è il fenomeno della depersonalizzazione e della realizzazione che parte in alcuni pazienti del repertorio sconfinato dei sintomi che una persona può vivere durante gli attacchi di panico ed è quella sensazione di estranetà del proprio corpo come se il corpo non ci appartenesse come se noi fossimo usciti dal nostro corpo e provassimo una sensazione di penosa solitudine senta ma quanta gente mediamente è afflitta da questo perché è una cosa che come dire che si pensa che sia così statisticamente irrilevante 3-4 milioni di persone in maniera cronica il motivo mi lasci dire due parole perché io mi decido io appartenente all'esponente della Repubblica della Scienza dalla divulgazione scientifica alla saggistica decido di tentare di sbarcare in quello che è il pantheon della narrativa perché il romanzo di quello di quello parliamo perché vede uno dei motivi che mi ha spinto a farlo è per dare voce io mi in possesso della coscienza di Laura una coscienza evidentemente rumorosa affollata da emozioni sensazioni brutte potremmo dire per dare voce a chi ne soffre perché molto spesso chi ne soffre si vergogna è un po' è un disturbo talmente diffuso ma le persone si vergognano perché guardate a proposito di modelli di stereotipi siamo tutti un po' condannati omologati a vincere a piacere a funzionare e quindi l'idea lo stereotipo il modello il paradigma della persona fragile vulnerabile fa sì che la persona viva questa solitudine con la vergogna perché si sente umiliato perché ancora oggi c'è lo stigma l'etichettatura sulla fronte del fatto che una persona può dire mi fa male la schiena o il mal di testa oppure mi fa male un ginocchio ma si deve ancora vergognare nel dire soffro di attacchi di panico allora il romanzo serve proprio a far sì che si possano scuotere un po' le coscienze a cercare di tentare di cambiare un paradigma culturale che a me in questo paese un paese nei confronti della scienza quei numeri che mi ha dato battono la depressione beh guardi le posso dire dare un'altra informazione che molte persone che hanno gli attacchi di panico 30-35% sviluppano anche la depressione e molte persone giusto per non farsi mancare niente perché sono due disturbi l'attacco di panico fa parte di di stupidanza la depressione fa parte di disturbi dell'umore ma molte persone che hanno la depressione possono complicare la loro sintomatologia anche con degli attacchi di panico come si affronta? ma guardi qui bisogna bisognerebbe sdoganare una volta per tutte quella parola psicofarmaco lo psicofarmaco è un farmaco come tutti gli altri che è stato in qualche modo a cui è stato attribuito un significato che è evocativo di negatività ma capiamoci bene nessuno di noi ama prendere le medicine nessuno fa le capriole salti di gioia ma quando servono i farmaci servono allora immaginate che il cervello è un organo che funziona con una strategia elettrochimica immaginate che il nostro cervello che pesa circa 1350 1400 grammi quindi circa il 2% del peso corporeo in realtà consuma circa il 20% del patrimonio e delle risorse energetiche ci sarà anche un motivo voi immaginate che il cervello funziona prima si parlava di mediatori chimici come queste sinapsi questi circuiti dove i neuroni se noi li vedessimo su un vetrino sono con queste braccia protese l'uno verso l'altro si cercano si amano si toccano si scambiano dei messaggini dei pizzini che sono altro che dei neurotrasmettitori cioè la serotonina ecco noi con la terapia medica farmacologica cerchiamo di ripristinare un livello di serotonina e di cercare di riportare la biologia alla normalità ma questo non basta molto spesso alla terapia farmacologica da cui nella mia esperienza non si può prescindere va affiancata anche una psicoterapia breve di tipo cognitivo comportamentale va affiancato lo sport l'attività fisica signori l'attività fisica è uno psicofarmaco naturale è un farmaco che consente alla persona di attingere a quella farmacia privata personale che ognuno di noi ha da cui si può attingere soltanto se noi camminiamo tutti i giorni io sono leggermente sedentario cosa rischio? ma guardi le posso dire una cosa al di là del peso che va bene guardi se dicevo prima questo è un paese che non ama la scienza dai me e si ricorda della scienza soltanto nei momenti più drammatici non tutti stasera due scienziati qua ragazzi però se noi pensiamo a quello che sta accadendo nel nostro paese noi siamo passati dal fenomeno di Bella a Stamina alla indecente e recente campagna di demonizzazione dei confronti dei vaccini ora la stupidità umana però produce produce degli effetti dei danni allora guardate noi oggi io la prima cosa che prescrivo letteralmente ai miei pazienti glielo scrivo e lo sottolineo con un evidenziatore l'attività fisica perché guardate oggi l'attività fisica consente oggi sono in aumento e sempre di più lo saranno perché la longevità la vita media è sempre più dilatata sempre più grazie alla scienza vivremo più a lungo sono in aumento le malattie neurodegenerative il morbo di Parkinson ci sono 250 300 mila persone la malattia di Alzheimer le demenze 800 mila allora noi sappiamo oggi che l'attività fisica forse insieme a tutta una serie di altri parametri il controllo della glicemia della pressione è una delle componenti più importanti l'attività fisica quotidiana tutti i giorni come forma di prevenzione perché parla al cervello modifica la chimica modifica la biologia allora il libro è volutamente non diviso in capitoli affinché fosse un'emozione non interrotta è proprio voluto è impegnativo mi consente di mantenere un minimo di ricordo scientifico ma di divulgare e soprattutto di creare quelle sensazioni riprodurle in chi non si rende nemmeno conto che cosa vuol dire rimanere forse per tutta la vita in quel drammatico recinto sa cosa ho notato a proposito che lei non ha si ha descritto questa laura però non l'ha collocata non dice dove abita cosa fa nella vita volutamente ha lasciato è questo perché tutti ci si potessero riconoscere potenzialmente no non per questo in realtà perché non ho voluto spendere pagine per dare dettagli spazio temporali perché vede la mia intenzione era poi se ci sono riuscito lo diranno gli altri creare un flusso di idee un flusso di coscienza costante ritorno più volte su quello che lei prova in quei momenti immaginate la prima volta quando lei sta alla guida della macchina è uscita da fuori città per andare a comprarsi una casa sul mare il sogno della sua vita lei viene raggiunta da un attacco di panico la prima volta mentre si trova sulla corsia di sorpasso le braccia inchiodate allo sterzo le macchine dietro che lampeggiavano e suonavano all'impazzata lei che non riuscita quindi immaginate la scena sembrerebbe la scena di un film ma è lei la prima a non accettare l'idea di avere questo tipo di disturbo perché perché quando arriva il pronto soccorso molto spesso all'inizio della delegittimazione inizia il pronto soccorso dove arriva il medico e ti dice non è niente è solo un attacco di panico attenzione un attacco di panico non è niente è molto è moltissimo perché da quel momento in poi cambia la vita della persona comincia una sorta di corpo a corpo tra mente e mente la persona comincia a sviluppare la paura della paura che è la memoria di quello che ha vissuto più l'anticipazione di quello che potrebbe riprovare allora comincia ad evitare tutta una serie di situazioni abbiamo detto l'aereo la metropolitana qui addirittura si mette a vivere in macchina perché la sua agorafobia cioè la paura di rassicurazioni vive davanti a un pronto soccorso dove lei fa avanti e indietro perché così ovviamente uno potrebbe dire ma è possibile vi racconto brevemente soltanto un caso che io descrivo in realtà su un saggio di una signora che aveva delle crisi di panico ormai lei non usciva più di casa poi piano piano non è uscita più dalla camera da letto della sua casa dove si era fatto installare un water un lavandino questa persona per mesi per anni iniziò a vivere in questa stanza un giorno mi chiamò io non riuscivo ad andare a visitarla poi mi convinse e lei mi raccontò che negli ultimi anni avendo rinunciato all'autonomia alla libertà perché il panico ti toglie la libertà che cosa faceva lei per sopravvivere rimaneva in casa abitava in un secondo piano calava un paniere con una corda e lo calava giù mettendo dei soldi e supplicava le persone che passavano di andare a fargli la spesa per lei ecco io penso che non ci si può non ci si debba mai ridurre così può capitare chiunque cioè il fatto che lei abbia reso abbastanza incerto il confine nei contorni del personaggio Laura significa che qualunque condizione sociale qualunque è un disturbo è una malattia democratica è trasversale democratica è un corno ma è come la depressione chiunque io ho dei pazienti medici ho dei pazienti medici e che hanno ecco però scusi lei ha descritto Laura come uscita da un divorzio piuttosto può avere può avere avuto incidenza cioè un fatto traumatico come assolutamente sì laddove c'è una predisposizione genetica un tallone d'Achille che biologicamente ancora non viene espresso ci sono situazioni che possono slatentizzare cioè far emergere quella predisposizione quindi un evento di perdita un evento di lutto un trauma ecco io per esempio nei giovani ma c'è qualcosa che può dirci se noi siamo geneticamente predisposti all'attacco di Parigi assolutamente no noi sappiamo che avere per esempio un padre o la madre o entrambi che hanno gli attacchi di panico ci candida ad avere una maggiore vulnerabilità fragilità perché aumenta un rischio si esprime come rischio e quindi come suscettibilità perché è trasmettibile perché c'è una maggiore debolezza genetica io per esempio vedo mai come oggi vedo adolescenti di 15-16 anni evidentemente predisposti non lo sanno che dopo due boccate tre boccate dell'innocente spinello cominciano a avere delle crisi di panico attenzione in quel caso spesso anche se smetti di farti lo spinello la canna quel circuito nel cervello va avanti autonomamente ecco parliamo un attimo di perché poi il romanzo naturalmente c'ha un suo finale che non svediamo perché se no nessuno compra il libro ma se ne esce e come se ne esce al di là della farmacologia che lei ci ha detto ma non si può dire al di là no no al di là nel senso che lei quello ce l'ha già detto ma diciamo c'è anche altro che serve per quello che ho detto prima innanzitutto accettare e la consapevolezza di avere un problema e poi rivolgersi a delle persone con esperienza ma questo vale per tutti i casi per tutta le situazioni se io vengo da lei dopo la prima volta ho più probabilità perché l'ho presa prima diciamo è un po' come ecco questa è una domanda molto interessante ma dica anche intelligente che non mi dispiace intelligente così è contento diciamo intelligente allora se un paziente viene da me e mi dice che ha avuto negli ultimi due mesi 5-6 attacchi di panico io la prima domanda che gli faccio è è cambiata la sua vita? no continua a prendere la macchia tutto certo non è piacevole ma se anche un solo attacco di panico cambia la mia vita e comincio a sviluppare la paura di viaggiare di muovermi a tono mente oppure chiedo a qualcuno di accompagnare ecco vuol dire che uno può immaginare di svenire di essere tutto quel repertorio che abbiamo detto e poi quando bisogna intervenire quando la frequenza l'intensità la durata e soprattutto la ridotta esposizione di quella persona del suo funzionamento sociale comincerà a far sì che la sua qualità di vita diventerà sempre più compromessa senta lei diciamo lo fa di mestiere no? quanti sono i neurologi che sono specializzati in questa cosa? c'è una specializzazione? c'è una guardi neurologi psichiatri oggi si parla lei cura solo questo o cura? no assolutamente no io sono un neurologo che mi occupo a tutto fondo dal Parkinson all'Alzheimer e come mai si è sviluppato questa attenzione? perché iniziai nei primi anni della mia professione ad occuparmi di un altro disturbo che poi indirettamente conduceva a questo disturbo che è la l'aviofobia cioè la paura di volare io iniziai a curare delle persone che erano bloccate nel prendere l'aereo ma perché vedete chi ha questo tipo di paura la paura di volare non teme tanto l'aereo che possa cadere certamente ma teme che il vero problema il vero nucleo grumo di chi soffre di questo disturbo di trovarsi in un luogo dove se succede qualcosa io non ho la via di fuga l'opportunità di allontanarmi per esempio chi soffre di attacchi di panico spesso in un cinema o non ci va oppure si mette verso le file esterne ma appena entra ispezione la via di uscita la localizza e la tiene d'occhio ci dice qual è stato il caso più grave che lei abbia visto e affrontato guardi ne ho affrontati tantissimi e sono tutti molto complessi anche perché ormai vedo tutti i casi più complicati dove l'uno è diverso dall'altro però ognuno mi colpisce per la sua ricchezza modalità di esprimere con le proprie emozioni con il proprio sentimento la sensazione di una vita che ormai è compromessa e vi dico che la mia forte ambizione di medico e per fortuna non mi sono guardate mai abituato a questa gratificazione è quella di cercare di collezionare il più possibile guarigioni ex pazienti pazienti che ritornano alla loro vita statisticamente gli ex quanti sono? sono tantissimi ma non cioè la guarigione quindi è a portata di mano assolutamente sì l'importante è che non si facciano terapie alternative ci si rivolga a degli esperti perché mai come in questo disturbo quello che conta l'esperienza il paziente capisce subito se tu hai capito di cosa stai parlando quello che dici e addirittura se anticipi e riesci a chiarire a lui a lei quello che lui prova ma che non trova nemmeno le parole per raccontarti grazie del lavoro che lei fa grazie di averlo messo in questo libro mi pare che mi pare che lei abbia intenzione di scrivere già qualcos'altro in realtà glielo do in anteblima mi è piaciuto l'idea di fare romanzi mi sto divertendo perché ho già scritto un altro romanzo che si chiama ve lo posso dire lo dico si chiama mister Parkinson tutto iniziò da quel pollice bene ci venga a trovare appena è pronto attacchi di panico Rosario Sorrentino grazie grazie di essere stati con noi ci vediamo lunedì prossimo arrivederci grazie grazie a tutti grazie a tutti